Da maggio in poi, ad aumentare i numeri del flusso turistico in regione, all'Aquila in particolare, ci hanno pensati i motociclisti che sulle due ruote, anche in gruppi, scelgono sempre più spesso l'abruzzo interno. Soprattutto nel fine settimana il flusso di moto è notevole, anche perché ci sono località come Gran Sasso e Campo Tosto, ad esempio, che sono molto gettonate dagli amanti delle due ruote. Gli incidenti, però, gli ultimi in ordine di tempo, proprio a Campo Tosto, peraltro, rimettono al centro il tema della sicurezza delle strade per chi viaggia in moto. Troppi sul territorio, e così il tema è stato oggetto anche di un recente confronto in prefettura. Le associazioni sono per i comportamenti sicuri alla guida, le forze dell'ordine controlleranno sulla velocità. La provincia, dal canto suo, ha ribadito che continuano gli interventi di manutenzione sulle strade, anche da parte di Anas, che ha preso la competenza su alcune strade nello specifico. Anche la statistica ha un suo peso, quindi ci sono incidenti, ma ci sono tantissimi motociclisti che vengono sulle nostre strade, e purtroppo i mezzi a due ruote sono comunque sempre dei mezzi più pericolosi delle quattro, anche per la guida normale. Diciamo che ci sarebbero molti correttivi da mettere in piedi per cercare di ridurre il fenomeno. Il primo che ci viene in mente, senza pensare immediatamente alla repressione, è ovviamente sviluppare corsi di tecniche di guida. Molti vanno in moto, ma non tutti posseggono le capacità giuste per poter andare. E quindi è una cosa che la Federazione Motociclistica sta facendo sul territorio nazionale da tempo e che noi speriamo di replicare molto spesso qui. Un'altra ovviamente è anche intervenire in quei casi in cui ci sono degli abusi, ci sono delle situazioni in cui purtroppo, essendo un numero elevato di persone che vanno in moto, ci sono anche quelli che effettivamente hanno un tipo di guida che non è accettabile sulle strade. La provincia dell'Aquila, nonostante ci sia ancora molto da fare, non è messa malissimo rispetto ad altre, ma servono anche dei corsi per una guida corretta, per una maggiore sensibilizzazione sul tema e ovviamente interventi specifici sulle strade per metterle in sicurezza. L'ANAS si sta muovendo meglio in questo senso, anche la provincia qualche intervento lo ha fatto, solamente che c'è ancora molto da fare. I nuovi guardrail che prevedono la parte inferiore coperta per evitare che il motociclista in scivolata abbia delle conseguenze peggiori si stanno mettendo, ma con una lentezza che è purtroppo cronica. Certo, ormai siamo in un momento in cui da un anno e mezzo si è bloccato il mondo, quindi vediamo un po' che cosa accadrà. Sicuramente c'è molto da fare anche per la manutenzione strade, però nella provincia dell'Aquila non siamo messi peggio di tante altre province.